Buongiorno a tutti, allora dopo le news arrivano le colnews, sarà una domenica ricca di video, dalle 7 del mattino fino alla 1, anzi forse fino alla 1 avrete video del gigione, uno ogni ora. Allora dopo le news arrivano le colnews storiche, parleremo dei cimbri che ci sono ancora ragazzi miei, ci sono ancora si trovano tra Veneto e Trentino ed è un apposto veramente libidine e ci sono appunto i discendenti dei cimbri che ancora oggi proseguono con il passato eccetera eccetera e ne parleremo parleremo appunto di un po' di storia dei cimbri e quant'altro. La seconda notizia è signori miei come con cui cosa piace alle donne, di noi maschietti, quindi per sapere se abbiamo delle chance, io ormai non mi sono messo, ho appeso le speranze al chiodo, però qua danno dei consigli, forse l'avevo già fatto questo video, ma ripetita juvan no stressan come dicono gli antichi. Quindi due notiziole non sono veloci veloci, parleremo di un po' di cosine. Quindi partiamo subito con questa notiziole, anzi forse sono tre le notizie sapete, aspettate un attimo, no sono solo due o forse sono tre, no sono tre ragazzi, sì 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 sono tre perché la terza notizia è di archeologia. E parleremo di un'antica mappa, mi ero dimenticato ma sono tre, sono tre notizioni, il gigione ogni tanto. D'altronde stasera è una seratona video e quindi permettetemi una piccola gaffe. Tre notizioni, quindi cimbri, con cosa piace alle donne dei maschietti e antica mappa egiziana, egiziana. Ma partiamo dalla prima notizia che è appunto questa curiosità su questo popolo. L'alto piano dei sette comuni che si trova tra Veneto e Trentino è un'area dove natura e storia si intrecciano in modo indissolubile. Tra le cose che maggiormente affascinano è che gli storici abitatori sono genti germaniche chiamate appunto cimbri che ancora oggi riescono a mantenere viva una lingua, una cultura e tradizioni proprie. Quando nel lontano 2001, cioè 21 anni fa, nel paesino di Luserna, di 269 anime, senti parlare cimbro alemanico, beh provai il brivido dell'esploratore. Parla appunto questa persona che ha fatto quest'articolo, poi vi dirò di chi è. Non la persona ma se è scienze, notizie, focus, quale dei due sarà. Avevo raggiunto quel luogo in poche ore di auto eppure mi sembrava di essere all'estero, o meglio in un'isola tra marziani dimenticati tra i boschi. Luserna soprattutto è una comunità letteralmente nascosta da alte foreste. Il bosco è la casa del cimbro, il tetto è il cielo, le finestre e gli spazi tra le foglie e le porte le ha rubate il vento. Questa poesia fa capire l'humus di questa comunità silvopastorale, e non è un caso che il regista bergamasco Ermanno Olmi, grande amante della natura, si sia trasferito proprio qui. Era rimasto profondamente colpito dalla spiccata comunione tra uomo e ambiente. Anche il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, ne rimase abbagliato e fece dell'alto piano una delle sue mete di villeggiatura preferite. All'inizio del film Il Signore degli Anelli si assiste al compleanno di Bilbo Baggins nel villaggio degli Hobbit e il mago Gandalf, che è anche il narratore, tratteggia gli spensierati Hobbit come persone semplici che pensano soltanto a star bene, mangiare e bere. Sappiamo che Tolkien entrasse spunto dall'arcaico mondo anglosassone e questi cimbri, isolati tra le montagne e chiusi al mondo esterno, ci possono ricordare la bucolica evidente contea degli Hobbit. Bevi vino, bevi e non lasciare mai il bicchiere pieno, bevi vino, bevi e lascia sempre il bicchiere vuoto, beviamo, cantiamo, mangiamo, se vuoi essere allegro. Bevi vino, bevi e mangia poi una salsiccia. Recitavo una poesia dell'altopiano. Ogni anno nel comune di Roana si organizza un festival cimbro di nome Oga Zeit, tempo alto, tempo bello. Sono dieci giorni verso metà di luglio dove si tengono incontri culturali, del gusto, mostre, rievocazioni storiche, concerti, escursioni nei luoghi più significativi dell'altopiano. Nel revival si racconta, con accento tedesco, delle leggendarie creature che popolavano queste terre misteriose come orchi, Jiger di Jagger, spero di averlo pronunciato giusto, perdonate il mio tedesco, sorta di selvaggi cavernicoli, Zeligen byblen o byblen che erano le fate, Anguane che erano le fate malvagie, Elfi, Gnomi, Sanguinelli che sono i folletti, eccetera eccetera eccetera. Simbolo per eccellenza del festival è la Schella, un antico campanaccio da richiamo che si usava nel mondo pastorale ma anche nei giorni di festa come per lo Schella Mars, il carnevale cimbro. Sull'origine di queste moderne genti ormai sussiste più che una toria, si può dire una leggenda. Si sosteneva che derivassero dagli antichi cimbri che nel 101 avanti Cristo, nella battaglia dei Campi Raudii, subirono una dissuata opera dei legionari romani di Mario e che un gruppo di guerrieri, scampato allo spaventoso massacro, furono oltre 20.000 quelli che vennero uccisi in quella battaglia, riparasse in queste remote montagne. Ma analisi del DNA e della lingua hanno smentito definitivamente questa fantasiosa ipotesi. Scusate il bronchino di Riace voleva dire la sua. Invece è molto probabile che siano giunti tra il 900 e il 1200 d.C. da Baviera e Tirolo occidentale, irradiandosi anche nell'alto piano di Folgaria, Val Posina, Monti Lessini e Bosco del Consiglio. Erano famiglie invitate da vescovi e rappresentanti imperiali, giunte quindi in modo pacifico per deforestare e mettere a cultura un'area semidisabitata e improduttiva. Trovarono perciò terre libere e rifugio sicuro. La ricca e grassa pianura, normalmente, era la preda più ambita da invasori e avidi signori e, all'ombra di queste foreste e monti, poterono prosperare e conservare la loro lingua e le loro tradizioni indisturbati. Dal punto di vista politico, nel 1310, con la caduta degli Ezzelini di Vicenza, i cimbri si costituirono come entità autonoma, dando vita all'aspettabile reggenza dei sette comuni. In cimbro Oje Wurungje Dar Siban Kumaune. Perdonatemi la pronuncia. I comuni erano Asiago, Lusiana, Enego, Roana, Rozzo, Gallio e Fozza. Tra questi, la capitale città più grande era naturalmente Asiago, che verrà definita da D'Annunzio la più piccola ma luminosa città d'Italia. Dove si teneva l'assemblea risiedeva un cancelliere, eletto da 14 rappresentanti comunali, che amministrava i beni della comunità. Fu un'esperienza marcatamente democratica e che, perdurata, ha pochi uguali. Il noto scrittore asiagese Mario Rigoni Stern, penso che lo conosciate per centomila gavette di ghiaccio, ha sempre esaltato i principi d'uguaglianza dei suoi antenati. Disse, nel territorio dei sette comuni non esistono castelli di nobili, non esistono ville di signori né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti secondo l'uso antico. Nei secoli i sette comuni dipenderanno da altri stati, ma riusciranno sempre a strappare un'autonomia pressoché totale, dal momento che le loro leggi non verranno mai toccate. Questo perché si trovavano in una posizione strategica e, essendo molto liberi alla bisogna bellicosi, si pensò di trattarli più da alleati che da sudditi. Si avvicendarono scaligeri veronesi, visconti milanesi, la Repubblica di Venezia per lungo tempo e l'Austria. Nell'Ottocento, a seguito dell'annessione all'Italia dei Savoia, l'economia dell'alto piano andò in crisi per il devastante miss di alta tassazione e bassa spesa per infrastrutture e ci affavorì un notevole spopolamento, con una forte migrazione verso paesi con affinità linguistiche, Austria, Svizzera, Germania, ma anche Australia e Stati Uniti. Infine, il bellicoso XX secolo colpì duro anche in queste terre, infuriando uno dei fronti più caldi e distruttivi della Grande Guerra, le cui vestigia di forti, bunker e sentieri attirano ancora oggi molti appassionati. La depressione cessò soltanto negli anni Sessanta, grazie all'inizio del turismo di massa. In conclusione, è illuminante sottolineare una particolarità che a tutt'oggi ci fa capire quanto la tradizione sia stata gelosamente preservata. Bene il 90% dei terreni sono di proprietà collettiva, secondo l'arcaica Costituzione Agraria tedesca, in un sistema denominato proprietà a mani riunite, dove il possesso è degli abitanti raggruppati in frazioni di comune, simile alle regole del cadore. È un rapporto giuridico non scritto che tende a rinsaldare il legame della comunità al suo territorio, generando così una forte coesione sociale. Allora, io ringrazio Scienze e Notizie, perché credo che sia loro questo bellissimo articolo, non so chi l'ha scritto, però è di Scienze e Notizie, quindi io vi dico Scienze e Notizie, che così vado sul sicuro. Non fosse suo, è di Focus, perché sono i due, diciamo, gruppi scientifici che utilizzo per queste notiziole qua. Sicuramente non è qui Como che mi parla di Trentino Alto Adice, Veneto. E non può essere di archeologia misteriosa, visto che solitamente archeologia misteriosa parla di Egitto e zone limitrofe. Ma dopo questo bel racconto di questa zona particolare, di questi cimbri, andiamo a vedere cosa piace alle donne di noi maschietti. Dicono, dicono che per fare colpo allenate la parte superiore del corpo, braccia forti e spalle ampie sono in cima alla lista del desiderio i femminili. Ma anche se siete slanciati o secchi, potreste avere qualche chance. Alti, spalluti, magri, che cosa piace alle donne? Se devi sognare, fallo in grande. Ben piazzati di spalle palestrati, anzi no, filiformi e spilungoni, con molti peli sul viso ma anche pelati, forti nel fisico ma non sul volto. Insomma, che cosa piace alle donne? La domanda, da chi le capisce e bravo, è al centro di uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B, che dipinge un quadro dei gusti femminili non proprio originale. Il classico è intramontabile. Hipster e nerd avranno anche il loro fascino, ma alla fine, come altre femmine di mammifero, le donne sapiens sono evolutamente portate a preferire gli uomini forti, soprattutto nel tronco e nelle braccia. Secondo la ricerca dell'Università di Griffith, nel Queensland, in Australia, sono soprattutto gli indizi di forza nella parte alta del corpo maschile a determinare l'attrazione a prima vista per una donna. Spalle ampie, fisico allenato e una buona presa sono visti come indizi delle qualità genetiche di un uomo e della sua abilità nel procurare risorse per la prole. Gli altri bonus. Ma se non siete ben messi da questo punto di vista, non tutto è perduto. Gli scienziati hanno mostrato a 159 donne foto a figura intera di uomini chiedendo di determinarne la forza fisica e l'attrattività. La variabile forza è risultata importante a tal punto che nessuna delle intervistate ha detto di preferire gli uomini fisicamente più deboli. Alla prestanza nella parte alta del corpo è legato il 70% della variabilità del fascino maschile. Subito dopo, però, è emersa anche una forte preferenza per gli uomini alti e magri. Come dire, se non è forte, che arrivi almeno a prendermi il libro sullo scaffale. Battutona. L'effetto di altezza e peso sull'attrattività potrebbe indicare che le donne rispondono a segni di buona salute o ai benefici che corpi alti e magri possono dare in caso di aggressione, di caccia o in altri aspetti dell'abilità di caccia. Ha spiegato Aaron Sell, a capo dello studio. Se i corpi tonici vanno per la maggiore, non sempre appezzati, sono invece i volti che esprimono forza fisica. Tuttavia, passate ricerca hanno dimostrato che le donne apprezzano gli uomini barbuti o pelati, perché più virili nell'aspetto. Ora è tutto più chiaro? No. Sicuramente. Comunque, ringraziamo Focus, perché questo articolo è di Focus, o comunque è stato ripreso da Focus, e quindi è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma io resto dell'idea che, come diceva Gian Ricalà, non sono bello, piaccio. Ecco, l'importante è piacere, non essere fighi, perché io ho visto tanti fighi, che poi erano dei pescilessi, e quindi per quanto fossero belli, dopo un po' la donna si rompeva i testi. Quindi ci vuole un po' tutto, ci vuole anche la faccia di merda, come diceva qualcuno. Poi se le fisiche derolle, quel che l'è, come se dice a Milan, di speranze non ne è molte, a meno che se è Woody Allen. Proseguiamo con questa terza notizia che mi regala archeologia misteriosa, che è un sito che ogni tanto mi regala qualche libidine. E quindi andiamo a leggerli che cosa si tratta. Avevo detto antica mappa, e qui è stata scoperta appunto la più antica mappa del mondo sotterraneo dell'antico Egitto. Sono state trovate delle antiche incisioni in una bara vecchia di 4.000 anni che mostra la via per gli inferi che le anime dovevano fare per raggiungere la vita eterna. Un nuovo studio pubblicato su The Journal of Egyptian Archaeology da Arco Williams sostiene che il testo illustrato trovato è la copia più antica di quella conosciuta come The Book of the Two Paths. Il libro dei due percorsi è stato concepito come una guida che ha aiutato il defunto a superare i pericoli degli inferi, come laghi di fuoco o demoni armati di coltelli, al fine di raggiungere il regno di Osiride e con esso la vita eterna. La mappa è incisa su due pannelli di legno e, sebbene altri testi simili siano stati trovati in altre bare, è la versione più antica finora scoperta. Si ritiene che la bara, trovata nel 2012 in un pozzo funerario nella necropoli egizia di Dair al-Barsha, contenesse i resti di una donna dell'aristocrazia chiamata Ankh. Ecco, solo a dirlo mi è venuto il bronco di Riace. Il testo dei due percorsi indica il viaggio dello spirito del defunto nella barca solare attraverso la regione del Rosetau, dove il corpo di Osiride è protetto da mura di fuoco per raggiungere il campo delle canne. Viene descritta l'esistenza di sette porte con guardiani o demone in ognuna. All'inizio c'è una porta di fuoco protetto da una guardia chiamata Colui che rifiuta gli ignoranti, che impedisce il passaggio a coloro che non hanno conoscenza e che una volta passata offre due alternative, verso la regione della luce o verso il mondo delle tenebre. Esiste un percorso diurno di carattere solare, rappresentato in nero, dove è accompagnato dal dio del sole Ra, e un percorso d'acqua di carattere usirico, rappresentato in blu, dove è accompagnato dal dio della luna Thoth. Solo i puri, attraverso questi testi, possono aggirare i guardiani del mondo inferiore e andare avanti senza essere intrappolati nell'oscurità assoluta, nel nulla, verso il regno di piena luce, preseduto da Ra Horus il vecchio. Vedremo quando sarà il momento, se dovremo anche noi fare questo viaggio sulla barca con questi personaggi che ci impediscono di raggiungere la luce e magari finiremo tutti. Sarà dura perché puri, 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 mi sa che siamo un po' in pochini, anzi mi sa che geneminga, come si suol dire, come si dice amigano, non ce ne sono. Vedremo se ci permetteranno o chiuderanno un occhio o meno sulle nostre malefatte in vita, anche le più piccole. Staremo a vedere, chi lo sa. Eh, il futuro è un'ipotesi, ragazzi miei. Come diceva il mio professore, pensate a vivere. Quando sarete morti ci penserete. Ma adesso non state a preoccuparvi di quello che prima o poi dovrà succedere. Quando succederà, succederà, ma se dovete vivere col pensiero di io muoio, non viverete bene. Bene, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio. Adesso vado a vedere le prove del Gran Premio di Formula 1, così vi faccio anche quelle. Le vedrete alle ore 13. Tanto il Gran Premio è alle 4, quindi avete tutto il tempo poi per guardarvele. E naturalmente poi ci vedremo alla prossima. È un sabato così, è un sabato, non è un sabato qualunque, è un sabato gigione. Sabato notturno gigione, sabato domenica notturno gigione. Ciao!